Il forum H2O, in particolare dopo la situazione venutasi a creare all'interno del traforo all'avvio dei sondaggi, pubblica le relazioni tecniche e ufficiali sui lavori proposti dal commissario Corsini. L'associazione punta il dito sul doppio commissario per un'unica problematica, ma soprattutto sulle perforazioni e sui lavori con interazioni con l'acquifero. La richiesta è alla Corte dei Conti affinché venga aperto un fascicolo per danni aereali da perdita di miliardi di litri d'acqua. Commissario che vuole fare altri lavori molto consistenti che porteranno ulteriori disagi sicuramente dal punto di vista del trasporto, ma sono anche lavori importanti. Però si è aperto un grande scontro anche con l'ente parco perché questi lavori prevedono anche drenaggi che sono vietati, drenaggi intorno alle gallerie che andrebbero a captare l'acqua e quindi a depauverare ulteriormente l'acquifero del Gran Sasso con rischio di ulteriore contaminazione. L'ente parco a settembre ha aperto un fronte su questi lavori perché ha detto che non si possono fare almeno in questa maniera perché peraltro i progetti non presentavano neanche nessun tipo di mitigazione del rischio di inquinamento delle acque, cosa a nostro avviso molto grave dopo tutto quello che è accaduto. Noi quello che chiediamo è che la procura della Corte dei Conti e anche la procura di Teramo accendano un faro su quello che sta accadendo, qua si perde acqua peraltro che va a scarico, miliardi di litri che vanno a scarico, che hanno un valore. Poi c'è anche tutta la partita della contaminazione potenziale dell'acquifero. I laboratori devono smantellare un esperimento che dovevano smantellare dal 2018 e ancora non lo fanno e tengono mille tonnellate di nafta dentro ai laboratori in maniera del tutto irregolare e quell'esperimento deve essere smantellato. La richiesta è anche agli enti di pubblicare alcuni atti? È veramente increscioso che siamo noi a dover divulgare i documenti, che otteniamo con laboriosi accessi agli atti e anche attivandoci in tutti i modi possibili per noi dare la trasparenza come attivisti, cosa che gli enti non stanno facendo.